Questa mattina nella sala briefing della caserma Evagnes ha avuto luogo la cerimonia del giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana di 10 neopromossi sovrintendenti e 3 neofinanzieri assegnati al comando provinciale di Caltanissetta. Davanti alla bandiera italiana e al comandante provinciale, il colonnello Stefano Gesuelli, hanno prestato solenne giuramento 10 neopromossi sovrintendenti e 3 neofinanzieri. Nel corso della cerimonia il comandante provinciale ha sottolineato che con il nuovo giuramento di fedeltà alla Repubblica e ai principi di disciplina ed onore, i neopromossi rinnovano in maniera più fervida e sostanziale l'adesione all'insieme dei valori più profondi racchiusi nel patrimonio etico del corpo per proseguire con nuovo slancio nelle attività di servizio a tutela dei cittadini, delle istituzioni e dell'economia legale. A margine della cerimonia sono state consegnate delle ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio al capo ufficio comando, il tenente colonnello Sergio Cerra, al comandante del gruppo di Gela, il maggiore Michele Bellopede e al comandante del nucleo operativo presso il gruppo di Caltanissetta, il tenente Ruben Gravante.